pensi di essere più efficiente facendo più cose contemporaneamente ebbene no al contrario l'essere umano è molto più efficiente concentrandosi su una cosa sola il multitasking infatti sembra una buona idea da un certo punto di vista ma come dimostrano oramai diversi studi è un inganno una fregatura una trappola quando passi da un'attività all'altra il nostro cervello si deve riadattare al nuovo compito alla nuova attività deve riportare alla mente tutte le informazioni necessarie ad esempio per la nuova attività facendo perdere tempo prezioso e sprecando energia e questo ci porta sia a commettere più errori che a impiegare più tempo per completare ogni singolo compito al contrario concentrandoci su una singola attività per volta ed eliminando le distrazioni la nostra produttività schizza alle stelle e il risultato facciamo meglio e più velocemente questa attività e come sempre è più facile a dirsi che a farsi perché tutti siamo oramai sommersi da stimoli stai facendo una cosa ai mille distrazioni e questo distrugge letteralmente la nostra produttività e aumenta di tantissimo gli errori commessi quello che dobbiamo fare però è innanzitutto priorizzare le nostre attività l'ho detto più e più volte che non tutte le attività hanno lo stesso valore e dobbiamo avere bene in testa inizia giornata quali sono le cose più importanti da fare dobbiamo concentrarci su di esse e ignorare tutto il resto finché quell'attività non è completata o perlomeno parte di essa ma dobbiamo essere concentrati su ciò che stiamo facendo e per farlo al meglio dobbiamo bloccare del tempo per ogni attività ne abbiamo parlato ieri della pianificazione e la logica è proprio quella dobbiamo dedicare dei blocchi di tempo specifici a ciascuna attività senza interruzione quindi spegne le notifiche chiude le mail concentrati solo su quello che è davanti quante volte ti è successo ad esempio di leggere un libro essere disturbato costantemente inizia a leggere mezzo paragrafo quattro righe ti sono al telefono cosa fai riparti dall'inizio poi ti arrivano una mail e riparti dall'inizio poi e ogni volta riparti dall'inizio e perdi un sacco di tempo nella produttività è uguale il punto è che però è difficile come abbiamo detto quindi noi dobbiamo allenarci a lavorare nel single tasking cioè nel fare una cosa alla volta all'inizio è incredibilmente difficile perché una parte di noi cercherà di distrarsi semplicemente ma se ci mettiamo sotto se ci concentriamo se blocchiamo tutte le distrazioni e con un pizzico di disciplina allora riusciremo a farlo e la nostra produttività aumenterà giorno dopo giorno per cui oggi rifletti su questo pensa alle tue giornate a quante cose fai contemporaneamente e pensa a quanta produttività stai perdendo ogni singolo giorno con questo è tutto io sono massimo martinini e ci sentiamo domani ciao aggiungo prova da oggi a concentrarti su una singola cosa siccome all'inizio difficile come dicevo inizia da attività brevi attività che richiedono 10 minuti 15 minuti non di più per quei 10 15 minuti blocca tutto concentrati solo su quello ti assicuro che quel compito sarà fatto veramente bene e se sei abituato a lavorare multitasking rimarre sorpreso dalla qualità e della velocità con cui sarà in grado di fare quel lavoro quindi provalo subito con questo è tutto davvero e ti saluto ciao